Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Quante volte vi sono sentito dire Uè Gaudiano, ma perché non installiamo WordPress? Tanto è facile, lo fai e non ci pensi più. E invece altro che non ci pensi più, perché chiunque di noi abbia installato WordPress, il CMS più famoso del mondo, lo strumento per creare blog, siti web più diffuso, che è diventato un po' uno standard grazie al fatto che è open source, grazie al fatto che è completamente gratuito da scaricare e installare. Bene, chi ha utilizzato WordPress sicuramente si è reso conto che dopo una settimana, diciamo anche qualche giorno, cominciano a cicciare fuori i messaggini, il plugin non è aggiornato, fai questo, fai quell'altro, per non parlare poi dei problemi che possono emergere. Ricordo benissimo una volta che il sito di un cliente era andato giù, che cosa aveva? Aveva link al Viagra un po' dappertutto nel sito. Si era installato un software malevolo all'interno del sito web, oppure quanti di noi sono andati in panico quando hanno scoperto che quelli che arrivavano da Google trovavano il messaggio questo sito potrebbe essere pericoloso solamente perché non avevamo l'HTTPS. Allora, qual è il fatto? Il fatto è che WordPress richiede manutenzione e aggiornamento. Ora, fino all'altro ieri sera tardi, c'erano due modi per fare manutenzione e aggiornamento. Uno era farselo da solo, quindi andare a studiare in giro, a guardare tutorial, a leggere documentazioni, a cercare di imparare a fare queste operazioni di manutenzione e aggiornamento diventando un po' programmatore, cioè cercando di imparare tutte le cose che servono anche per decidere quali operazioni performare, quando performarle e in che modo. Dall'altra parte c'era la possibilità di delegare tutto all'esterno, come ho fatto io personalmente, perché a me piace, dopo aver fatto, dopo aver provato con mano come funzionano le cose, mi piace delegare quello che posso delegare. E infatti mi ero affidato a WPOK, WPOK del mio compagno di Mastermind, Daniele Besana, e l'avete conosciuto nel 2017 addirittura! Ho fatto raccontare a Daniele l'invenzione di un suo bot che dava consigli per utilizzare WordPress se vuoi fare business. Bene, io ho delegato completamente a WPOK la gestione del mio sito, in particolare di youmediaweb.com, e l'aggiornamento, la manutenzione e tutti gli interventi. Ma, proprio grazie a Daniele Besana, si è venuta a creare una terza via. Una via assolutamente alla portata di tutti, perché è un corso online su Udemy per imparare a fare manutenzione e aggiornamento. E allora lo scopriamo insieme a Daniele Besana, che ci racconterà il suo corso di manutenzione e aggiornamento appena pubblicato su Udemy. Daniele, toglimi la curiosità, ma com'è che ti è venuto in mente di creare questo corso su Udemy? Ma Giulio, è nato tutto al Black Friday, che era a fine novembre. Ho acquistato un corso Udemy che parlava della dieta keto, dieta ketogenica, che è una cosa assurda che assolutamente non seguo, però mi interessava approfondire. E lì ho iniziato a pensare, sono carini questi corsi online, magari è qualcosa che posso fare anch'io. E ho iniziato a pensare che, in effetti, guardando poi in giro su Udemy i corsi WordPress esistenti, ne ho trovati tanti che parlano di come creare un sito, di come anche programmare, di come utilizzare i plugin più diffusi. Però non ho trovato veramente niente che spiegasse come fare la manutenzione. Quando il sito è finito, è fatto e funzionante, che cosa fare dopo per tenerlo sicuro e farlo continuare a funzionare al meglio? E visto che quella è proprio la specialità, è quello che facciamo noi, con i nostri servizi WPOK, dove abbiamo, lasciami dire, un po' un punto di vista privilegiato, perché nel corso degli anni, avendo a che fare con tanti siti e clienti diversi, abbiamo visto che cosa funziona, cosa non funziona, e soprattutto gli errori da evitare, mi sono detto, ok, qua c'è della conoscenza che si può condividere e impacchettare in un corso online. Questo è veramente figo, devo dire che evidentemente ci hai visto giusto, perché vedo che appena l'hai lanciato, già una cinquantina di studenti, recensioni super positive, feedback, ma diciamo il dubbio che può avvenire per chi si vuole fare il conto della serva è questo. Ora, tu hai una società che fa manutenzione e assistenza a WordPress in italiano, con ticket limitati, assistendo le persone, in cambio di un abbonamento, quindi le persone si abbonano e tu gli fai l'assistenza e la manutenzione. Ora, ma non hai paura che se si vanno a fare il corso che pubblichi su Udemy, è vero che c'era della conoscenza da condividere, ma io voglio fare l'avvocato del diavolo e dire, ma se tu questa conoscenza la condividi, non hai paura che poi le persone non vengono ad acquistare i tuoi servizi e si fanno la manutenzione da soli? Guarda Giulio, è un dubbio che all'inizio avevo anch'io, e tant'è che quando ho iniziato a pensare a questo corso, l'ho pensato come un corso da non vendere, nel senso un corso che volevo fare per creare dell'autorità, per far vedere che noi siamo talmente fighi, siamo talmente esperti di manutenzione WordPress che abbiamo anche un corso. Però non avevo pensato poi che ci fosse veramente gente effettivamente interessata all'argomento. E devo dire che quello che penso è che chi vuole seguire il corso è liberissimo di farlo, è un po' come si fa adesso, insomma, online si trovano tantissime risorse di tantissimi argomenti, come funzionano, anche come funzionano i blog, e un po' la teoria, quello che dice Gary V nel suo libro Jab, 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 Right Hook, dai tante cose perché poi ti fai conoscere e quando le persone avranno bisogno di te torneranno. Quindi chi vuole farsi la manutenzione WordPress in casa, da sola, seguendo il corso e imparando come muoversi, è liberissimo di farlo. Di solito queste persone non sono il tipo di cliente che va a attivare l'abbonamento, perché chi vuole attivare l'abbonamento queste cose non ne vuole neanche sapere, tante volte non vuole neanche perderci tempo, quindi preferisce delegare, pagare degli esperti e lasciare fare a loro. Però anche chi segue questo corso può arrivare al punto in cui ha bisogno di qualcosa di più avanzato, legato al proprio sito WordPress, e a quel punto spero che si ricorderà di VpOK e di noi che abbiamo fatto questo corso. È molto interessante perché alla fine utilizzi un corso su Udemy, che sembra di per sé un prodotto, perché è un corso che è in vendita, quindi in teoria stai vendendo un prodotto, ma in realtà questo prodotto è un'iniziativa di content marketing che ti permette di promuovere un servizio con le persone che saranno quelle predisposte ad acquistare il servizio di VpOK. Io stesso sono tuo cliente, io stesso ho preso il corso, ho avuto accesso al corso, ho visto alcune lezioni, dopodiché, scusami, ora non ci rimanere male, ma mi sono detto scusa, ma già fanno tutto loro, perché devo impararle a fare? Cioè, ho già risolto il mio problema. Però ci sono alcune persone che acquisteranno il corso e impareranno dal corso a fare la manutenzione e l'assistenza a Wordpress. E le altre persone che potranno vedere quanto è complesso fare questa manutenzione e dire, ma quasi quasi, visto che costa pochissimo, i ticket sono illimitati, vado direttamente da VpOK a farmi fare questo servizio. Facciamo una cosa, torniamo indietro, perché poi alla fine, non essendo tu insegnante di professione, noi ti prendiamo sempre in giro nel mastermind, diciamo che sei tecnico di brutto, allora immagino che avrai avuto delle difficoltà anche nel creare il corso, il primo corso. Quali sono state, una volta che hai pensato di creare questo corso, le sfide che hai dovuto affrontare, le cose che non hai capito subito in maniera intuitiva sul come creare un corso, o le cose che hai scoperto lungo il percorso che poi oggi hai messo nella tua cassetta degli attrezzi e sei in grado di insegnare a qualcun altro che vuole iniziare a fare un corso da zero. Sì, allora la lezione più grande è fallo, e fallo e basta. Cioè, ho deciso di allocare tutto il mese di gennaio per creare questo corso. E devo dire, guardando indietro, è stata la strategia giusta, perché intorno a me sento tante persone che continuano a dire che vogliono fare un corso, che stanno facendo un corso, e però il suo corso non nasce mai. Perché? Perché mi sembrano di quelle attività che o ci dedichi veramente tanto tempo e ci metti tanta testa per finirlo nel più breve tempo possibile oppure rischia di trascinarsi e non finire mai. Anche perché fare un corso, un videocorso, ha bisogno di una certa ambientazione. La mia casa è diventata un piccolo set cinematografico per il mese di gennaio, perché all'inizio in modo molto casereccio ho impostato le luci, poi anche grazie al tuo aiuto e ai consigli degli altri compagni Mastermind mi sono sempre di più organizzato, ho comprato anche un set di luci professionali. Ecco, no, perché svegliamo in retroscena. Praticamente Daniele ha messo a ripetaglio la sua vita perché si era fatto il set casareccio con una lampadina attaccata dietro di sé con lo scotch che naturalmente è cascata e quindi si è trovato noi, volendogli bene all'interno del Mastermind, gli abbiamo detto ma spendi gli sti 60 euro e comprati due luci professionali. Per cui ora è diventato una specie di maniaco delle luci. Ho visto la foto della sua postazione ormai accende le luci anche quando non fai video per sentirsi importante, per sentirsi a Hollywood. Allora, quindi, ecco, qual è stata l'attrezzatura? A parte le luci che io le so, l'attrezzatura, piccola parentesi sull'attrezzatura della quale ti sei dovuto dotare del budget che hai investito? Del budget che ho investito 30 euro perché per il set di luci preso su Amazon. Per il resto la webcam è la Logitech 920 che sono una settantina di euro però la usavo già e come microfono ho utilizzato lo Smart Love della Rode che pare una settina di euro e ce l'ho da un po' di tempo. Quindi in realtà non ho dovuto comprare niente di nuovo se non le luci. Ok, quindi l'attrezzatura di base con 200 euro della 6 cavata. Diciamo, a parte la curva di apprendimento sull'utilizzo dell'attrezzatura, quindi mi dicevi quale sono state, la prima lezione fallo e basta, la seconda lezione qual è? La prima lezione è quello lì di iniziare e dedicarci del tempo subito. La seconda lezione, o meglio sfida diciamo, è stata quella di dover scegliere la piattaforma perché ci sono tantissime piattaforme dove poter pubblicare corsi. Non da ultimo, visto che noi facciamo WordPress, c'era anche l'opzione di mettere in piedi un sito o comunque una sezione del nostro sito con dei plugin dedicati per fare la parte di corsi online e qui alla fine sono ricaduto su Udemy e devo dire che è stato un buon consiglio che ho ricevuto anche da parte tua perché è una piattaforma estremamente semplice da utilizzare, è una piattaforma che, ve lo sto vedendo adesso, ti dà visibilità perché il corso è stato comprato anche da persone che non mi conoscono. Insomma, ho fatto un mio lancio ovviamente, però ci sono anche persone che sono arrivate in modo organico dalla piattaforma di Udemy e poi anche tutto il discorso di amministrazione di non mi devo preoccupare di ricevere pagamenti, vendite, fatture eccetera perché è tutta una cosa che fa Udemy e secondo me per chi approccia i corsi come io che ho fatto un corso senza avere delle aspettative ben chiare utilizzare una piattaforma così ti permette veramente di dedicarti ai contenuti senza stare a preoccuparti di 100.000 altre cose quindi ecco, la scelta della piattaforma è stata un po' una sfida però sono contento di aver utilizzato Udemy. Ecco, su questo sono contento anche io di avertelo consigliato perché ci sono tanti piccoli problemi, tante piccole difficoltà, cose che richiedono lavoro e impegno che quando uno inizia a fare il corso non ci pensa diceva beh, metto il corso, mi faccio il corso sul mio sito in realtà Udemy si smazza per conto tuo ma a partire dall'invio automatico dell'email con il messaggio di benvenuto personalizzato quando una persona inizia il corso uno non ci pensa oppure un'altra cosa è il certificato di completamento che è una cosa che in Italia tanti che fanno corsi online vogliono avere un certificato una roba da stamparti e attaccarti al muro che ti dice ho fatto il corso di manutenzione e assistenza a me personalmente non me ne importa assolutamente nulla ma ho visto che nel tempo tante persone lo vogliono addirittura ho degli studenti di miei corsi Udemy che quando ci siamo incontrati magari per un evento dal vivo si sono portati il certificato e mi hanno chiesto di controfirmarlo dal vivo se lo sono portati stampato su carta più pesante quindi voglio dire tutte queste cosine qua la generazione automatica del pdf sono tutte cose che completano l'esperienza del corso senza parlare poi della possibilità di poter scaricare dall'applicazione per vedere in un secondo momento io ho alcuni che frequentano i corsi che dicono Giulio io li vedo la mattina ma lavoro e durante le pause non ho la possibilità di avere la connessione non prende il telefono dove lavoro io come faccio a vedere i corsi e me li posso scaricare ecco con l'applicazione Udemy si possono prescaricare le lezioni per poi vedersene in un secondo momento ho visto che hai creato un sacco di sezioni sette sezioni addirittura ne do un'introduzione poi backup completi di sito e contenuti aggiornamenti di wordpress plugin e tema tenere il sito sicuro per evitare intrusioni e perdita di dati tenere il sito veloce e performante capire se stai utilizzando l'hosting giusto e poi la conclusione come hai fatto da che cosa hai preso ispirazione per creare questo indice per capire gli argomenti da trattare sì io ero partito creandomi una mind map una mappa mentale e raggruppando un po' i contenuti di cui volevo parlare ti presenta che per me è stato proprio un percorso cioè a parte svegliarmi la mattina e dire ok voglio fare il corso in realtà sono un paio d'anni che ho iniziato a fare video su youtube a parlare di argomenti legati alla manutenzione sui vari canali di WPOK quindi avevo già tutta una serie di contenuti o comunque informazioni, idee e per la prima volta mi sono trovato a metterli in modo ordinato e creare una scaletta quindi ecco le macro aree di cui volevo parlare erano queste sezioni e poi per ogni sezione sono andato a definire un po' più nello specifico le lezioni che volevo inserire poi fatta la mappa mentale mi ha aiutato molto creare il curriculum direttamente su Udemy anche qui un truccaccio dei tuoi però inserendo già le lezioni e le lezioni le lezioni anche i quiz dentro in Udemy prima ancora di registrare i contenuti avevo già creato la scaletta delle cose di cui volevo parlare poi strada facendo ovviamente ci sono state alcune modifiche ci sono state delle lezioni che ho aggiunto altre che ho cambiato leggermente però almeno sono partito già con una struttura fatta e sapendo che da quel punto lì in poi dovevo solo impegnarmi a registrare queste benedette lezioni ogni giorno bene vedo anche che hai seguito l'approccio americano cioè quello di creare delle lezioni non troppo lunghe cioè vedo delle lezioni da un minuto e trenta altre da otto minuti ma in questo range più o meno abbiamo tutte le durate delle lezioni lezioni brevi che possano essere viste durante una pausa pranzo che possano essere fruite mentre aspetti la metropolitana e che al tempo stesso sono corredate da quiz che consentono di fissare i contenuti quindi ecco è una forma di corso molto affine a quella che anche a me piace inserire nei miei corsi e che col tempo è stato il risultato dell'esperienza hai parlato prima di lancio perché è vero che il corso è diventato è stato all'inizio per te un esperimento mi dicevi non volevi neanche venderlo volevi utilizzarlo come strumento di branding poi è diventato un modo per acquisire nuovi contatti cioè persone che non conoscevi non ti conoscevano ma attraverso l'acquisto del corso sono venuti a contatto con il brand WPOK hai parlato anche però di lancio quindi mi racconti come ti sei mosso una volta completato il corso una volta che è stato pubblicato come ti sei mosso per portarlo alle persone sì allora ho diviso la fase di lancio in due parti una che chiamiamola soft launch dove ho dato accesso al corso alla mia cerchia ristretta di persone che conosco che stimo e che da cui volevo dei feedback quindi i compagni i compagni dei mastermind da cui faccio parte e ho iniziato a raccogliere dei feedback da loro feedback sia sul contenuto e sullo stile materiale che poi anche le prime recensioni ovviamente recensioni amiche quindi è un buon modo per iniziare poi ho fatto una ho allargato un po' la cerchia e sono andato a fare una fase di lancio molto semplice non ho fatto niente di troppo strutturato una fase molto semplice dove ho iniziato a innanzitutto a regalare il corso ai clienti abbonati di WPOK e questo è stato un modo diciamo per dire grazie perché in realtà è anche grazie a loro che ci hanno affidato il sito da mantenere che ci siamo potuti fare l'esperienza che andiamo a condividere nel corso quindi l'ho regalato a loro e poi l'ho dato in offerta ai clienti non abbonati di WPOK quindi quelli che magari non si possono ancora permettere di avere un abbonamento o sentono che magari sentono che la manutenzione non è importante insomma è anche un modo per fare rendere le persone più consapevoli del fatto che la manutenzione è super importante quindi a loro l'ho dato un'offerta perché con Udemy puoi creare dei coupon di sconto molto semplici da utilizzare sono direttamente dentro l'indirizzo che condividi quindi ho sconto a loro poi un altro sconto a le persone più in generale i prospect di WPOK quindi più in generale le persone che magari pur non essendo clienti ci hanno contattato nel corso del tempo l'ho fatto circolare anche il corso nei vari canali quindi sul nostro chatbot WOK e sui social media quindi facebook e linkedin che sono quelli che che utilizzo questo conclude un po' manca solo una cosa che devo ancora registrare un video per il canale youtube dove annuncio il corso e magari raccontando un attimo dietro le quinte ok e curiosità da mente deformata dal marketing hai utilizzato per questi vari canali per la promozione attraverso il tuo chatbot che poi voglio anche inserire nelle note dell'episodio come link perché magari chi non ti conosce non sa che sei stato così matto da creare un'intelligenza artificiale che tramite la chat di facebook ti dà consigli su come ottimizzare wordpress utilizzarlo per fare business quindi magari qualcuno non sa di questo personaggio che hai creato però attraverso il tuo chatbot attraverso facebook attraverso linkedin hai utilizzato dei codici diversi in modo da poter tracciare le conversioni tracciare qual era l'ultimo punto prima dell'acquisto attraverso i vari social o hai genericamente messo un codice e come va va no beh si li ho creati diversi si si quindi si va ogni canale ogni canale ho dato un suo coupon proprio per per tracciare capire un po' come vanno ok e da da quello che hai visto finora qual è il canale che ti ha portato più riscontro il canale che ha portato più riscontro è stato l'email ai clienti non abbonati ah perfetto certo certo però sono successe anche delle cose strane perché ci sono anche clienti abbonati e in particolare sono rimasto sorpreso perché c'è un cliente abbonato che ha l'abbonamento VIP quindi l'abbonamento di livello superiore che ha seguito tutto il corso fino alla fine pur essendo un cliente che non tocca niente del sito perché facciamo tutto noi quindi è stato interessante vedere alcune alcune dinamiche è anche interessante il fatto che alla fine molti si fermano questo lo vedo con tante persone che seguo nella loro strategia digitale molti si fermano a una visione binaria allora io vendo valvole industriali o compri o non compri ti do il servizio di consulenza o compri o non compri ma in realtà l'esperienza a parte che è sempre utile srotolare nel tempo io faccio disegnare tantissimi processi di relazione faccio fare anche degli esercizi per capire che la vita delle persone è più complessa di questa opzione binaria compri non compri ma c'è scopro che tu sei la persona che mi può aiutare per fare questa cosa ma oggi non mi serve domani mi serve ma non ho il budget per permettermi di fare questo acquisto dopo domani mi serve ho il budget e nel frattempo ho anche consigliato però l'acquisto a un'altra persona che mi aveva chiesto se conoscevo qualche punto di riferimento allora il valore di un cliente nel tempo e anche di un potenziale cliente è molto alto ma la cosa che dimostra i tuoi numeri sulle vendite è anche che molti hanno dei database di prospect cioè delle liste di persone che ancora non sono diventate loro clienti che potrebbero essere monetizzate proprio attraverso la creazione di prodotti d'entrata prodotti totalmente scalabili perché wordpress se udemy se vende un corso o 100 corsi non è che Daniele deve andare lì e mettere lo scontrino o fare la ciclette cioè è completamente ormai ha creato il corso l'ha messo su e punto è finito più persone lo vende meglio è ma non è che deve fare lavoro aggiuntivo quindi si possono creare piccoli prodotti d'entrata che indirizzati alla lista di persone interessate a quello che facciamo ma non pronta ancora a diventare nostro cliente possono realmente consentirci di monetizzare anche queste liste e di dare valore a queste persone e magari spingere e accorciare il ciclo di prospecting cioè il ciclo di informazione educazione e preparazione all'acquisto poi del nostro servizio vero e proprio una piccola curiosità Daniele ah beh innanzitutto scusa ti prendo subito in castagna visto che hai parlato di bonus ora voglio anch'io un bel coupon sconto per gli ascoltatori di strategia digitale ce lo dai ce lo regali? certo c'è il coupon pronto ok alla grande allora lo metto anche quello nelle note dell'episodio dicevo un'ultima curiosità tu sei una persona per chi ti conosce molto riflessiva cioè non sei un animale da palcoscenico come ti sei sentito a metterti davanti alla telecamera perché in realtà poi io quando ho visto i video ho detto Mizzicavo sembra non lo so sembra che non hai fatto altro tutta la vita cioè sei molto spigliato davanti al video come ti sei preparato per e quali difficoltà hai affrontato per poi essere così performante durante la registrazione del corso beh ti ringrazio Giulio magari forse esageri un po' però come dicevo prima non è una cosa che non è una cosa che in un giorno si è fatta cioè io ho iniziato due anni fa a fare con i primi video youtube quindi un po' le ossa sul stare davanti alla telecamera vabbè alla webcam e fare lo screen screencast quindi far vedere delle cose sullo schermo e in generale parlare mi sono fatto un po' un po' le ossa così mi ha aiutato anche tanto il podcast che sto facendo insieme a Marco Gatti perché anche lì è un bel esercizio ogni settimana per parlare in pubblico spiegare cose e questa volta la sfida è stata fare dei video di qualità un po' più alta cioè meno arrangiati così come li faccio di solito su youtube ma una cosa un po' più professionale quindi il discorso delle luci che era un discorso che non avevo mai affrontato sinceramente non ne sapevo una mazza però sì ho imparato insomma ci vuole un minimo di attrezzatura decente e un po' di tempo da dedicarci per capire come utilizzarla perché infatti se ti ricordi la prima foto che ti ho mandato agli ombrellini erano montati al contrario sì sì gli ombrellini montati al contrario poi c'era lo sfondo che non riuscì mai a farlo bianco cioè anche quelle sono tutte piccole micro competenze diciamo come ti sei documentato hai preso solo i consigli di noi del mastermind o hai trovato anche online delle risorse per aumentare la professionalità delle tue riprese consigli vostri poi ho guardato un po' di video in giro su youtube un giorno è venuto lì un mio amico che è anche fotografo un mio amico Angelo che vive ad Amsterdam anche lui quindi insieme mi ha dato una mano per fare il posizionamento giusto alle luci fantastico la ringraziamo Angelo che è il tuo asso nella manica Daniele io ti ringrazio tanto sia per questa chiacchierata sia per il coupon che regalerai agli ascoltatori di strategia digitale sia per aver condiviso questa strategia che effettivamente può fare la differenza la creazione di corsi come strumento di inbound e content marketing per molti di noi sia quelli che hanno già dei database enormi di prospect sia quelli che vogliono cominciare a farsi conoscere e perché non farsi conoscere proprio grazie alla creazione e pubblicazione di un corso su Udemy siamo arrivati alla fine di questo episodio e allora ragazzi come sempre a me piace lavorare su più piani contemporaneamente la notizia del giorno è che questo corso è finalmente pubblicato e che anche il carissimo Daniele essendo parte della community di strategia digitale ha voluto condividere con noi la possibilità di portarcela a casa a prezzo scontato la seconda notizia è questa che Udemy è veramente uno strumento pazzesco per fare content marketing attraverso i corsi stiamo lì a creare video podcast a creare articoli contenuti online ma abbiamo mai pensato alla possibilità di creare un corso ogni formato di contenuto ha una sua specificità un suo valore legato anche al format al modo in cui è impacchettato alla tecnologia di distribuzione che utilizza all'esperienza alla dinamica che si attiva quando le persone utilizzano il nostro contenuto e allora il corso online può essere un ottimo contenuto l'esperienza di Daniele secondo me è emblematica di questo perché Daniele chi le conosce lo sa è tutt'altro che un animale da palcoscenico non è uno che ha i grilli per la testa della comunicazione un programmatore puro un imprenditore che non c'ha mai tempo perché c'ha mille cose da fare e gira per il mondo eppure ha trovato la possibilità di creare questo tipo di contenuto quindi se l'ha fatto Daniele è veramente alla portata di tutti questa operazione e vi invito magari proprio con questo corso dedicato alla manutenzione e all'aggiornamento con i tanti altri corsi che trovate su Udemy a cominciare a esplorare questo mondo vedo sempre più interesse soprattutto nella Digital Business School e anche dentro il Digital Mastermind stanno tutti un po' impassiti si sono messi tutti un po' a creare corsi online perché sembra che finalmente molti si sono svegliati hanno capito che online si può imparare in maniera flessibile in maniera non meno efficace che dal vivo anzi forse più efficace in maniera sicuramente più economica allora io ringrazio Daniele per averci raccontato la sua storia ringrazio tutti i finanziatori di strategia digitale ragazzi ultimamente negli ultimi giorni sono piombati dall'interno della community di un sacco di nuovi finanziatori Raffaele Emanuele Mauro Andrea Amerigo cito gli ultimi che sono arrivati tra noi ma vi ringrazio tutti ad uno ad uno perché contribuite alla crescita del nostro progetto con le vostre idee suggerimenti anche con le vostre bellissime storie mi ha colpito in particolare la storia di Raffaele il quale racconta come qualche anno fa su un video pubblicato da me su Youtube aveva appreso della certificazione di Google AdWords e ha deciso di prendere questa certificazione anzi ne ha prese 4-5 certificazioni di Google Advertising e lo scorso anno è riuscito a fare il grande passo a licenziarsi dal suo vecchio lavoro e ad aprire un'agenzia partito praticamente da zero si è lanciato in un mondo totalmente nuovo e stimolante ed è molto contento tant'è vero che ha deciso in qualche modo di far ritornare questo valore all'interno di strategia digitale proprio attraverso questo finanziamento grazie Raffaele di aver condiviso la tua storia e ne sento tante ne sento tante ogni giorno perché alla fine quello che fa la differenza è passare dalla teoria alla pratica dall'ascolto e riflessione al mettere in pratica nella nostra vita quotidiana nel nostro lavoro quello che impariamo il nostro approccio strategico allora grazie a tutti i finanziatori di strategia digitale se vuoi diventare finanziatore anche tu strategiadigitale.info è quello il punto di ritrovo e grazie anche Audra Bertolone la coautrice del podcast al nostro fonico Costanza Mineo e a radiospeaker.it grazie per il sound design ragazzi buona giornata a tutti grazie mille e alla prossima strategia digitale idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano